Ben ritornoschio su Lion Lab, oggi non sono da solo ma c'è? Ciao! Ah, pensavo fosse un'altra persona, invece era Anna. Scusa, chi ti aspettavi? Giulia Roberts. Una volta mi hanno detto che ho il sorriso uguale a Giulia Roberts, lo sai. Ma va cagare, ormai è anche attempata la signora, buon salutone. Comunque, stiamo in un gioco cringe e per cui c'è Anna, perché Anna è la signora cringe, capito? Ah, grazie, cioè se sapevo che tu mi chiamavi per offendermi non venivo. Allora, eccolo qua. Ti piace? Bisogna fare le unghie, eh? Ma se volevi farti le unghie, ma se volevi lo dicevi a meno. Sì, naturale. Allora, vedi, in questo caso c'è questa signora che sei tu. Le vuole a stiletto. Le vuole a stiletto, ora. Mi piacciono un sacco le unghie a stiletto. Ok, allora noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo tagliare, vedi? Tra l'altro la signora caga emoji per deciderci se siamo bravi o no. Perché le piace quello che stai facendo. Se gliela scaghi, invece, non le piace più e allora ti insulto. Bellissime, le voglio anche io. Per l'inizio è facile, chiaramente. Poi piano piano sbloccheremo delle cose in più da fare su unghie. Una domanda importante, ma c'è dello schifo? No, il problema qua è un altro. No, invece, siamo dei mastri, non partono le pubblicità. Succa, gioco. All right, allora, prossima signorina che cosa vuole? Le vuole semplici. No, qua le cose semplici non le facciamo. Qua dobbiamo fare semplici, va bene. Allora, gliele vuole corte e quindi gliele... Allora, gliele limo, la signorina ci pensava. Troppo, troppo, troppo. Sono il mastro della lima, Anna. Mi chiamavano quando ero in carcere. Non sono mai stato in carcere. Ok, ripetiamolo. Non lo sapevo. Non sono mai stato in carcere, era una battuta. Comunque, quando ero in carcere, che non sono mai stato, ma è una battuta, mi chiamavano il mastro della lima perché io sono evaso. Ah, ma pensa! Sì, sì. Oh, voglio anche lo smalto, è di brutto, chiaramente. Adesso tu l'hai sbloccato, infatti adesso dovrai imparare a mettere lo smalto. Cosa è successo? Perché c'è questo divano scomodo lì? Perché tu devi anche sistemare il tuo negozio, scusa, eh. Se uno... Cioè, tu ci andresti da una cacciata... Eh no, adesso sì, eh. Fantastico, fantastico. Proseguiamo, non voglio votare un cacchio. Ok, la signorina che cosa gradisce? Che unghie di merla. Sono belle. Gliele smaltiamo, decido io il colore. Rosa, dorate, a lei. Ma lei vuole rosa. A me non me ne frega nulla di cosa vuole lei. To, le unghie color piscio. Te, belle. Mi piace, mi piace molto. Eh? Contenta? No. Sono perplessa, eh. Infatti, non è che sta... Allora, l'arte non si comanda, la Ionio decide come devi avere le unghie. Va bene, va bene, ci sta. Non voglio comprare niente, grazie. Arrivederci, un salutone anche a casa, eh. Ciao, ciao. Altre cose che possiamo sbloccare. Vorrei altri utensili, però io. Allora, vedi, adesso lei le vuole semplici, ma anche smaltate. Sì, ma se tu parli guardando là, si sente in Giappone. E io non so come devo guardare... Guarda qui! Ma l'altra volta mi hai detto guarda lì! No, devi guardare qui! Va bene, guarda lì. Allora, per prima cosa, Mastro della Lima, vedi qua, l'Ionio... E questa volta, dai, possiamo anche... La contenti? Ma sì, dai. Guarda come sono bravo. Questo è più un colore caco, però poi... Allora, è un colore che non mi devi correggere perché ti faccio mangiare lo smalto, eh. Va bene! Nella mia boutique delle mani, porca miseria... Mi chiama le mani perfette per fare la pasta del Dottor Lion. Ma è lunghissimo, cioè... Possiamo fare le Nail Art, Anna! Bello! Bello, è come me, pazzesco! Ma se sei bravo... Eh, eh, vedi? Non ti voglio più niente da te. La signorina, per esempio, è un bonus. Posso farla? Eh no, vedi? Eh, mannaggia, signorina... Anna miseria. Cioè, avrebbe dato un sacco di soldi la signorina, eh? Avrebbe dato un sacco di soldi. E non posso manco prendermi le tips. Vabbè, compro una pianta. Beh, 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 è una pianta. Sono quattro fili verbo! È estetic. Ma va cagher! Allora, prossima cosa... Eh, vuole una Nail Art, Anna, qui. Bello! Allora, stai buona perché questa... Non devi guardare di là. Eh, ma lì è più grosso, capito? Non mi interroga, devi guardare qui. Allora. La signorina vuole una base rossa? Credo. Forse era bianca la base, sai? No, no, è rossa, è rossa. Era bianca, Anna. Mi sa che la base è bianca. No, no, no. Ah, è giusto, è giusto, è giusto. E poi dobbiamo sgabirrare un pochino sopra così. No, solo in quello centrale. Ho sgabirrato male? Sì, hai fatto male. Guarda che disastro. Eh, suvele lo stesso però, eh. Che devo fare adesso? E ci devi mettere i pallini perché i pallini io volevo ad un altro... No, solo ai lati, non al centro. Così? Hai sbagliato dappertutto. Ma caghera. Dai! Signorina, è troppo difficile. Però è venuto bene lo stesso, eh. È bellissimo. Ha visto? È contenta? Eh? Vabbè, quasi bene, dai. Quasi bene, quasi bene. Quasi che è più bello di quello che voleva. Eh, perché l'arte... Vedi perché la boutique delle mani che fanno la pasta di Lion, dottore, è bella? È bellissima, è un posto dove puoi ritrovare la gioia e... Ah, dopo mi fai le unghie, capito? Sì, esatto, ti sputo sulle unghie dopo. Schifo! Questa, abbiamo sullocato la fare per pulire, se sbagliate... Eh, che schifo. Vabbè, l'acetone. Allora, la signorina è venuta con le unghie tutte scagazzate, non si doveva permettere. Vabbè, lei si è scrostato lo smalto, tu li hai dei pulire. Certo che l'acetone se lo potrebbe comprare sola, eh. Però... Sporcacciona, zozzona. Anna, se c'avete le unghie smaltate sporche, andatevele a pulire... Dai a pulire subito! Ma quello era smalto, non era mica terra! Anche se è smalto. Oh, sporco. Andiamo avanti. La signorina... Ah, che belle unghie, queste sono unghie da porcacciona. Allora, facciamole subito. Ma perché sono belle? È un colore sporcaccione, quello. Ecco, beh, anche lei tutte smer... Questa si è pulita il sedere e non si è lavata le mani. Dai! Che schifo! Anna! Ma che hai detto? Mi dissocio da quello che hai detto. Ma io non ho detto niente! Che come ti permetti? Vieni qui nella boutique di Lion e parli di cacca. Ma io non ho detto niente! Fatene la vergogna! Ma fatela a te la vergogna! Questo negozio dove entrano ste genti! Ma non posso farla questa, perché... Questo smalto qua bisogna guardare la pubblicità. Eh, allora ce n'avrei uno di base. Questo blu... Oltreoceano, con le scaglie. Eh, mamma mia! Bellissimo! Più bello di quello che volevi tu, ignorantona! Vai, porta a casa, eh! 200 soldi! E quella ti dice, ma io devo fare la strega! E tu fai la strega blu dell'acqua! Beh, hai rotto il gioco! Devi aspettare! Perché ti vuole far guardare la pubblicità! Per forza! Eh, ma mi sa che io ho premuto, premendo sul... Che la volevo! Hai rotto tutte cose! Ho rotto il gioco! Che bravo! E mo? Proprio bravissimo! Aspetta, possiamo risolvere! Basta che facciamo così! Riapriamo il gioco! Eh? Mamma mia! E andiamo a bellettare altre unghiette! Nel saloon della Madonna è impensabile, no? Vediamo un po'? Che dovrebbero chiamarlo Lion Saloon, dottore delle unghie della pasta! Vedi, abbiamo risolto tutto! Ecco un'altra signorina! No, però che unghie del cacchio volete? Bellissime! Sì, ma ve le fate da soli, se unghie semplici, cioè... Io non posso perdere tempo con questo genere di unghia! Io devo fare le unghie quelle elaborate! Posso sapere che tipo di acetone unghie? Toh! 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 Teh! Vaffanquario! Toh! Ma così guadagni poco! Vaffanqu... Non è possibile! La signorina non ci vede bene! Buono, così... Non è possibile! Facciamo il lavoro male! Cioè, questa cosa fa schifo! Abbiamo sbloccato il cuti... Che schifo! Questo è per togliere le pellicine, Anna! No, non è per togliere le pellicine! Le cuticole! Eh, le cuticole! Sono quelle cose attaccate alle unghie alla base! Che schifo! Perché le spingono! Io non ho capito perché! Sì, vabbè, ma questa è andata... Eeeh! Ma che cazzo è? Eeeh! Perché devono fare schifo oltre una certa? Ma non è vero che sono così lunghe! Ma che è Bigfoot questa? Che schifo! Eeeh, il sangue! Oh, sono andato male! Hai cuticolato... Sei incacchiata, infatti! Gli hai fatto male! Eh, ci ho fatto male, sì! Mannaggia a te, schifosa! Vieni qua tutta cagata così ed è colpa mia! Ma non è vero che sono così! Avrei usato la sega circolare io per toglierti... Ma ci voleva la smerigliatrice! Oh, cavolo! Che porcaio! Te! Con te! Mamma mia! Mamma mia, che schifo! Allora, qua occhio, dobbiamo aspettare che escano grazie! Avevi promesso che non c'erano schifezze! Eh, ma io infatti pensavo che non ci fossero, non è mica colpa mia! Sblocchiamo un divano migliore, perché il divano... Questa c'ha le unghie incarnite! Il divano è la parte più importante, comunque! Vero, vero, perché quelle che attendono devono sedere su qualcosa di comodo! Ancora di più! Più divano! Bellissimo! Non ci basta! No, compra un'altra cosa, non è che c'è... Vedi quanta roba c'è! Allora compriamo... Il tuo bancone! Non si può comprare, si può comprare la lampada solo! Una bella lampada! È uguale a quella di prima, ma marrone! Peggiore anche... Adesso... Bellissima! Alla grande, va bene! Ora la sedia su cui siede... No, basta, grazie, vai a fanquiro! Ok! Un'altra VIP! Non è possibile, questa non possiamo soddisfarla, perché... Perché no? Perché se no si rompe il gioco! E sei tu questa! Sì, assolutamente! Hai visto? Molto simile! Voglio... No, a punta quadrata no! Vuoi le unghie quadrate e rosse? Va bene! E non c'ho le cuticole così! E c'hai... Che schifo, Anna! Non ce le ho così! Che schifo! Non ce l'ho quadrata io! Eh, te le becchi a stiletto! Va bene? Va bene! A me piace un astiletto! Va benissimo! Ah, perfetto! Allora, ok! Guarda un po' come ci pensa l'Ionio tuo! Grazie! Eh, a queste mani bestiazze! Te! Sì, ma io sta schifezza non ce l'ho! Adesso non ce l'hai, perché ci ha pensato... Eh, Ale, un po' di sangue! Dai, che fa male! Ale, aspetta, aspetta! Fa male davvero! Ecco qua! Adesso prendiamo il rosso! Questo qua è un colore proprietario... Della Lion Incorporation! Rosso scaqueriglio! Ma me lo devi mettere bene! E le lasciamo così perché è arte, così, hai capito? Questo, e vedi, ti è pure piaciuto perché sei un po' scemotta! Ma non abbastanza! Vabbè! Fai anche pollice in su... Ma che cazzo! ...perché c'hai 90 anni a quanto sembra! Perfetto! Eh, questo qui! Questo qua! Finalmente una nail art come si deve! Allora, dobbiamo fare la base... Verdina qua! ...e non ce l'abbiamo, quindi sarà gialla! Ma se il coniglio è bianco, poi non si vede! È un coniglio giallo! Poi, lo strato del coniglio lo facciamo... Bianco! ...rosa! Ah, anche! Bello, bello, bello! Così, tutto bello! Brillantinato! Sgabirà! Perché è di fasqua! Sì! È bellissimo però! Bellissimo! Wow! E poi l'interno del coniglio è bianco! Bianco! Bello, bello! Voilà! Vediamo un po'? Fantastico! Carinissimo! Molto meglio di quello di prima! Ci sono anche delle carote in giro! Blu! Ok, facciamo blu! Blu! Perché ci sta bene! Questi suoi colori non è che si può avere tanta scelta! Eh? Molto bello! Perfetto! Anch'io volevo quella nail art, non quella schifo! Eh no, però a lei gli ha fatto cagare comunque! Vabbè! Non capisci niente! C'è chi ha pado neanche l'attivo! Sapete che vi dico mi fermo qua perché sono molto contrariato! E adesso vieni a farmi le unghie! Va bene, ti metto il limone sulle unghie! Lion out! Ciao!